Una casa di almeno tre metri, ricoperta e arredata da dolciumi. Il mio sogno che diventa realtà. Da costruire in tre giorni. Cosa? È una follia! I gemelli Scott in una gara speciale. E in prima visione assoluta, case di pan di zenzero. La sfida! Siete pronti? Sì! Venerdì 9 dicembre alle 20.10 su Fine Living, canale 49. Ah, le teste sono stressanti.